ok ciao a tutti cercherò anche di essere rapida pier diceva se vuoi passare attraverso l'emergenza e quello che a me interessa oggi è proprio parlare di questo attraversamento e mi sono chiesta quindi come sto passando attraverso questa emergenza mi sto chiedendo se ci sto passando con tutti i miei corpi come la bte ci insegna con tutti i livelli del corpo mente quindi quello fisico quello mentale quello emotivo quello energetico e quello spirituale anche se mi rendo conto che tutte le volte che medito sento che la mia parte spirituale il mio sé ha già attraversato l'emergenza è già di là non l'ha proprio probabilmente neanche vissuta e mi devo chiedere quindi se in questo attraversamento sto lasciando indietro dei pezzi o se la mia esperienza invece è integrale no noi parliamo tantissimo di integrale soprattutto noi transpersonali e quindi devo fare molta attenzione di non lasciare indietro pezzi e di essere integrale in questo passaggio e quindi chiedermi se il mio sé in questo momento di attraversamento per andare oltre e se il mio io scusate al servizio del mio sé è servo o padrone il mio io e questo per me è davvero un punto molto importante mi collego con quello che diceva laura all'inizio e ringrazio tra l'altro tutti di quello che avete detto è stato molto bello è un momento in cui leggo e quindi l'io è messo a durissima prova perché se la sorgente sa già qual è la risposta sa già la direzione è già là e ci sta aspettando non è detto che il nostro io invece ci stia arrivando e quindi la condivisione che volevo fare oggi con noi riguarda proprio questo passaggio di elaborazione che è importante che noi facciamo e come tutte elaborazioni di situazioni traumatiche schiettamente traumatica di questo possiamo parlare perché tutti quanti abbiamo vissuto in qualche modo un trauma nel senso proprio di spaccatura no da prima a dopo dalle certezze che avevamo e che il nostro io aveva rispetto al suo funzionamento nel mondo alle certezze che avevamo di delle sicurezze e delle risorse che c'erano nell'ambiente che c'erano per noi alle sicurezze nel futuro tutto quello che appunto li ho costruito per farsi la sua bellissima zona di comfort è andato scretolandosi e questo parla di trauma e quindi parla di processo di elaborazione esattamente come tutti i processi di elaborazione del lutto noi dobbiamo vedere esattamente dove siamo per poter integrare tutti i pezzi quindi la cosa la prima cosa che mi chiedono dove sono rispetto al al processo per esempio sono ancora magari nel rifiuto nel rifiuto che è la prima fase di qualsiasi processo di elaborazione data una situazione di crisi e di trauma come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo bene il rifiuto è una fase importantissima ma non posso restare nel rifiuto e quindi è importante la consapevolezza di vedere se questo rifiuto mi sta bloccando da qualche parte perché non mi porterà oltre non mi porterà oltre l'emergenza il posto in cui noi vogliamo arrivare oggi e ci stiamo chiedendo di arrivare se rimarrò nel rifiuto e il rifiuto si trasformerà in battaglia senza essere elaborato io non andrò oltre all'emergenza significa che non integrerò l'esperienza che avrò fatto e siccome se già la non riuscirò a portare l'io insieme al sé per farmi fare il passaggio di crescita che in questo momento mi sto chiedendo di fare oppure sono nella rabbia che è una fase importantissima una potentissima fase energetica trasformativa ma anche in questo caso la rabbia deve essere processata trovare un colpevole che sia interiore no oppure esteriore non mi aiuterà ad andare oltre per cui che sia il virus il vaccino la cura le regole eh chi si vaccina o chi non si vaccina no mi allontanerà allontanerà continuamente dal mio centro che la che mi aspetta che come diceva Vale Serafico che mi dice allora arrivi o non arrivi quindi devo portarmelo dietro questo io che deve vedere ed accettare oppure sono nella fase del patteggiamento una fantastica fase in cui mi posso totalmente illudere che tutto tornerà come prima si è parlato tanto anche di questo no non facciamo in modo che tutto non torni come prima solo che nella fase della paura dell'elaborazione del lutto eh può essere che io mi agganci a questo bisogno perché come eh diceva Leonora la paura è molto forte quindi magari sto aspettando che tutto ritorni a posto che passi questa tempesta che semplicemente mi lasci di nuovo come prima e che così io non debba affrontare la parte più importante dell'elaborazione che è la parte del dolore e che è davvero la fase necessaria all'integrazione di questa esperienza che mi permette di andare oltre l'emergenza e quindi è proprio la fase del dolore che mi permette di fare chiarezza la chiarezza che mi serve perché in questa fase io finalmente mi permetto di vedere la realtà per quello che è per ciò che ha causato nella mia vita per quello che mi ha fatto perdere per quello che mi sta chiedendo di cambiare è quella strettoia importantissima di cui parlava anche Pierre che è la resa al dolore e allora posso andare oltre ma io mi arrendo a questo dolore significa che davvero mi faccio attraversare da questo dolore e oltre quindi oltre a tutto questo nel momento in cui io posso fare questi passaggi allora posso incontrare il mio sé non perché non posso se c'è sempre lo posso incontrare in qualsiasi momento solo che il rischio è quello famosissimo bypass spirituale che io cito tantissime volte perché l'ho visto tante volte attivo in me per cui appunto uso il sé come motivo per poter rafforzare il mio io e in questo caso sarebbe un gravissimo un gravissimo una grande ferita che mi faccio un grande sgambetto che mi faccio e allora l'io può raggiungere il sé perché a quel punto non si racconta più balle questa emergenza l'ha davvero elaborata perché si è permesso di vedere tutto quello che c'era da vedere non porta con sé gli irrisolti e può raggiungere il sé che è la nostra parte autentica che mi sta dicendo qual è la strada in questo momento oltre l'emergenza che cosa cambiare della mia vita questa emergenza mi ha detto che cosa posso cambiare e nel sentire tutti gli interventi di prima sorridevo perché tutte le volte che sento questi colleghi che stimo tantissimo parlare ho la sensazione che mi mi riattivino una volontà fortissima di lasciare tutto di lasciare tutto non come fuga ma di lasciare tutto per seguire davvero questo centro che è là che mi aspetta che mi aspetta che mi sta dicendo dai fallo questo pasto fallo io credo fermamente che possiamo tornare non a come prima non verso la strada che cianconi che cianconi ha sottolineato in maniera così chiara e che sicuramente fa paura che a livello planetario possiamo svegliarci da questa illusione di quello che abbiamo creato però per farlo dobbiamo portarci dietro l'io e farci carico del dolore e integrarlo verso una risoluzione solo qui solo così l'io può essere al servizio del se farci fare quel passaggio concludo leggendo una piccola citazione di chandra livia candiani dal libro questo immenso non sapere che mi piace tantissimo e che secondo me esprime molto bene quello che volevo dire ho una sensazione strana e per me davvero insolita mi sento adatta a questa epoca proprio questa con la pandemia il crollo economico la politica miserabile la confusione l'assenza di sogni sul futuro proprio a questa mi sento adatta questa dove la natura si allontana da noi gli animali si stingono gli alberi vengono abbattuti il pianeta si riscalda e il clima si scombina le persone disimparano a parlarsi e ascoltarsi tutti sono offesi di qualcosa tutti si sentono vittime e le vittime vere annaspano e muoiono silenziosamente mi sento adatta perché lo so da sempre che finiva così con gli alberi gli animali lo sentivo da bambina il loro abitare in costante pericolo essere solo merce vivi solo per appartenere a un'altra specie ora tutto crolla ma cosa crolla quello che stava in piedi solo sulle spalle sulle schiene di altri umani animali o vegetali che fossero sono adatta so come stare al mondo questo mondo a pezzi lo so senza saperlo so come far sentire a casa qualcuno come ascoltare senza consolare come celebrare i bambini e la loro preveggenza come allargare le braccia accogliere come vivere in punta di piedi come vacillare conosco il tempo arso dell'emergenza e la fierezza senza centro con cui la natura raccoglie i lembi della distruzione e continua i cicli del nascere morire rinascere ho preso una decisione diventerò una persona serena hanno riso tutti non si può diventare sereni può darsi ma lo farò lo stesso non concederò più tempo alle voci che profetizzano solo il crollo senza sentire la necessità di cadere per potersi rialzare non ascolterò le voci che dicono andrà tutto bene anzi ascolterò senza credere starò con il male come male senza infiorarlo né velarlo lascerò che passi in me come una tempesta e gli domanderò cosa sente perché per quote furiosamente tutto perché non si lascia ascoltare e ho un'indomabile fiducia in cosa non lo so è senza nome e io aggiungo che la fiducia incrollabile invece nel sé che per noi ha questo nome e che auguro a me e a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti